Nella giornata mondiale per la riduzione dei rischi dei fenomeni naturali e in concomitanza con i lavori di abbattimento del ponte Garibaldi a Senigallia, l'assessore Aguzzi insieme ai tecnici della protezione civile regionale e del genio civile Stefano Stefoni, si è recato sul posto per supervisionare e vedere il procedimento dei lavori sul fiume Misa, che procedono a pieno ritmo sia per quel che riguarda la pulizia del reticolo fluviale, con il contestuale ampliamento dell'alveo sia per l'intervento strutturale appunto sul ponte Garibaldi. Sono lavori all'unisono, è un'intera progettualità che vede la completa messa in sicurezza di tutto l'alveo del fiume Misa per prevenire situazioni purtroppo di sofferenza come si sono evidenziate sia lo scorso anno che nel 2014. Sono lavori eccezionali, una pulizia così completa del fiume Misa non era credo mai avvenuta nella storia. L'abbattimento del ponte avverrà durante la prossima settimana e ci vorranno pochi giorni. Poi nel giro di alcune settimane sarà liberato completamente l'alveo del fiume dalle pile dell'attuale ponte, in modo da poter gestire il deflusso in mare per qualsiasi eventuale nuova piena. In contemporanea continueranno i lavori di pulitura dello stesso alveo e l'asportazione del materiale che coinvolge ben sei ditte, con un impiego di risorse per 1.800.000 euro. I lavori arrivano oltre il ponte di Ostra di Ostra fino al ponte di Ostravetere, il ponte del Coppetto, che anche in questo caso, proprio in queste ore, è stato abbattuto e ci sarà poi un successivo rifacimento. In queste ore si stanno dei lavori in corso anche al ponte della Chiuso del Vallone per ripristinarne la viabilità e la funzionalità. Ecco, è un lavoro complessivo che parte da Monte fino qui all'interno del centro storico di Senigallia. Grazie. 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 Grazie.